Primo evento Green nel cuore di Roma. I prossimi 10, 11 e 12 settembre l'isola tiberina diventerà isola della sostenibilità. La manifestazione, organizzata dalla Gera SRL, Società di Green Marketing e Comunicazione Integrata, con il patrocinio di importanti istituzioni, Commissione Europea, Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Roma Capitale, si svolgerà col supporto di varie aziende ed associazioni aderenti all'iniziativa. I workshop in programma presso l'isola nel cuore della Capitale permetteranno dunque di mettere in relazione istituzioni, imprese e cittadini con un confronto attivo sulle proposte di sviluppo sostenibile. Quattro i temi al centro del pubblico spazio, cibo, città sostenibile, energia, sport e benessere. Quattro segmenti per approfondire con convegni dall'ingresso libero, gli aspetti dall'ambiente alla mobilità, del vivere in ecocittà o ancora di un sistema produttivo in chiave green, per guardare infine anche allo sport come miglior alleato della salute. I cittadini sono avvisati, vivere sostenibile è possibile anche a Roma.